Hei, ha, hei Ragazzi, bentornati su Quei Due Sul Server 2 Potreste, potreste anche non essere tornati su Quei Due Sul Server 2 Perché? Può darsi che vi trovate in una realtà parallela dove Quei Due Sul Server 2 non si chiama Quei Due Sul Server 2 Ma 3, perché se questo gioco fa... Punto 4 Ma schifo? No, ma dici... Almeno il primo gameplay è il beneficio del dubbio, guarda qua Vabbè, si chiama Guarda, guarda che bella No, è bello Commentiamo questa scena prima di partire Prima di fare qualsiasi... Commentiamo questa scena Quindici, uno, duemiladiciannove Hanno fatto l'ultimo aggiornamento Commentiamo questa scena, per favore C'è una pistola, un caricatore, un coltello Poco leggibile, devo dire Molto poco leggibile Cioè io vedevo solo le... I bangali sullo sfondo E un telefono acceso Che probabilmente sarà la nostra doccia Ma vediamo i credits Prima di tutto per non partire prevenuti subito Oh, c'è uno sviluppatore Oh, la musica è di Apatia Cry Fusing asset Quindi non dice ci sono altre persone Ma sono proprio asset Realistic FPS prefab Partiamo Partiamo Due persone per fare la musica Uno per fare tutto il gioco Via Play Oh, 3 aprile 2017 Data della tua morte Data della tua morte Interessante Però siamo già morti Perché siamo nel 19 Eri esattamente sul treno che è arrivato alla stazione Con i corpi innocenti Già morti Persone Sei un peccatore Sei un peccatore Sei un peccatore Però è bello questo inizio Mi piace Ma è molto racconta Insomma Comunque fa schifo Comunque Aspetta Aspetta Fermi Perpiccia la torcia Si accende la torcia Zoom in Tab Io lo dobbiamo spiegare a loro Io lo dobbiamo spiegare a me Vai avanti Vai Durante la tua vita Senza valore Senza valore Tu Sei stato in grado di fare un sacco di cose cattive Questa Video che cazzo è Starting point Questa beautiful cosa È al punto di partenza Solo da qui C'è l'entrata per il bunker dell'anima E non c'è modo di tornare Ti do questa meravigliosa opportunità di visitare la mia anima Quindi stiamo entrando in un'anima Tu avrai un giorno indimenticabile Un viaggio Porca puttana Indimenticabile Che bella però l'idea è buona sto Quando odio il fatto che quando a coltelli si sposta Bella sta cosa che è RTX questa Cagli una grande puttana RTX questa Cosa Cosa è R Raytracing non lo vedi Ma se magari ci fosse quello che dell'anima ti parlava L'anima per il momento deve rimanerci Ho fatto una combo di quelle Oh c'è una siringa Com'era quella? Una siringa drogata Ah ti sei rimessa a posto E adesso Hai preso le malattie A destra vai a destra A destra A destra Aspetta aspetta Lo so Cristo buono Vabbè dai Senti ti libero di navigare Do cazzo vuoi Un poche parole Sì ma io voglio capire Ma da dove esce la luce F interact Item with which you can interact are highlighted Vabbè ok va bene Perché si deve tirare la porta Cazzo Ok ma da sta lucido cazzo gli esce dall'occhio sinistro mi sembra di E che cosa La porta purtroppo non si può interattare Io non so Ma quindi che stiamo a cercare Ma con una violenza apre le cose Ma che cazzo stiamo a cercare questo perché La ritenzione Ma secondo te uno ti manda i messaggi Ah 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 Uno ti manda i messaggi in anonimo sul cellulare E tu segui le indicazioni Ma sei scemo Eh no perché qui siamo in un Ma sei un ringgoglionito È diverso No tolge mi sono perso La cosa bella è che ci abbiamo le cuffie alte Quindi se esce qualcosa ci cagliamo sottissimo Cioè le abbiamo messe sulle tempie Quello significa Ah non c'è animazione Ci sono dei Sembravano strani figuri Avanti Chi è che fa ding 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 in giro con la stampa Ding 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 Ah possiamo correre eh Sì c'è la stampa Considerato C'è stamina davanti a te La prima volta non va mai Devi premere O C'è la puttana C'è altissima io La grande zoccola Oh no cazzo è fastidioso Oh 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 8 colpi C'hai i colpi sopra la pistola guarda Mi spieghi perché abbiamo questo gioco Non ce lo siamo ancora chiesti Io non lo so Devo averlo comprato nel mio passato Questo devo avertelo fatto vedere Non è vero Non è vero Secondo me si Scusami entra Stava quello e stava male Ah E' passato comunque T'apposto Si fai cazzi suoi Attenzione t'ha visto Ma no Succedono facile Però se ti cellulari di merda che suonano Non lascio stilio nero So io Eh So io I like it Ti piaciuto Ti piaciuto Ma quella puttana di mamma Ti ha pure mai persa C'è la maestra di Charlie Brown che fa lezione E' No Se c'è la gioia dell'Headshot Una notte Che lì No si sta trasformando Non gli puoi sparare Ma quindi Ma non te li puoi tenere Sono Sono completamente in salute Sì ma Non te li puoi tenere per dopo Cosa No perchè lui purtroppo c'ha una tasca sola E Può metterci solo una siringa drogata alla volta Ma tutto ciò non puoi vedere quanti colpi qua abbia Torniamo indietro Vediamo cosa che possiamo fare Ma qui ci siamo stati Non lo so Si e da qui siamo caduti Forse da quell'altra porta Ho visto che lascio le porte aperte No è barricato Eh beh adesso Però non gli devi sparare sulla schiena eh Oh quella pu... Io salirei su qualcosa di alto E chi non cammi insegna Riesci da qua Non puoi riuscire a destra Tipo c'è sta qualcosa a destra No perchè io sono caduto da qui Capito? Eh scusa Che cazzo ce l'hanno messo a fa qua il mostro? Eh in effetti Beh forse ce l'hanno messo così Per darti un'emozione Ma non... Non più di quello Vabbè rigirati No Io sono entrato Sì ma non puoi salirla Io sono caduto da qui C'è questa faccina Allora lasciala aperta le porte che vediamo Ah certo certo Questa Oh del sangue Segui il sangue Sfa caga sotto la virtuale Ah! Che è successo niente? Quando cadono a terra a 300 euro Stai arrivando? Sì arrivo Quanto sono bruttissimo Ma comunque ci vogliono tre colpi Il go is nothing Guarda guarda com'è guardingo Vabbè vado a controllare Vabbè ragazzi è un gioco Mandingo nel culo Ah! sola persona questo è uno dei più dignitosi che abbiamo però sì però madonna quando fai accadere le cose ciao la puttana della sorella da dove cazzo è arrivato da dove cazzo c'ho cagato sotto quando corri ti si sfoca tutto è blarrato è un po da vomitare c'è il disattiva la butta lo sto coso mi ricordo non dovresti sapere è dignitoso per essere fatto da una persona ma mamma mia il sangue da lei sono sanguinato guardarsi soltanto mediante la violenza si va bene ti è piaciuto fare quando eri un ragazzo di scuola con i complessi quindi siamo cattivi siamo eravamo dei buttati finisce sta cazzo di ora è bello l'idea che noi siamo dei bulli ci stanno ma non è vero un buccia e la pistola ci stanno punendo perché hai trovato una pistola per strada no per quale quale persona ignorante di ma non sei un cazzo d'inglese dalla viene il termine bullet ma sti cazzo di cosi non si sentono attacco wireless si sente c'è 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 sembra la toffo che mangi i crocchetti e poi arriva mi so caccato sotto la seconda volta sti figli di puttana sto figli ho già fatto venire qua per senza allora ogni stanza le travi le puoi spostare proba ce l'abbiamo la proba l'avevamo trovata il caporacro ti indica qualcosa sul tavolo oh grazie a dio stiamo trovando un po di colpi il problema è che qui vaffanculo il problema è che noi da qui siamo entrati no ma che cazzo ne so mi sto a perdere c'ho la labirindite c'ho negli angoli sta arrivando forse ce l'hai dietro no 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 è rimasto ingastrato si era tanto un sacco sinistra non abbia le cuffie storte vabbè sono giusto quindi la signora ma un mozzetto che urla ahhh ma dove è uscito non muori cazzo ce n'è un altro da qua fuori si lamenta a sinistra occhio perché quando meno te lo aspetti lui arriva e ti ingula ma noi ci siamo già stati eh si eccolo bravo più deciso eh torna a sinistra aspetta aspetta che ma qua ci siamo stati hai salito su dalle scale figlio che puttata che scale che non abbiamo fatto noi beh si quando siamo venuti al piano di sopra ce n'hai uno di sotto ma guarda è pieno ma io no eh c'è un alzo pazzesco spara in panza spara in panza in panza in panza in panza c'hai ragione in fondo potrebbe esserci una stanza con dentro un pottino o un mostro vacca puttana guarda che potrebbe esserci pure la tua sinistra sento se lo stai ingroppando quello che no 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 prendi il primo con l'hitbox fermo fermo sei ingastrato nell'altro ma comunque gli hai sparato 6.000 colpi gli hai sparato eh lo so ma pensavo di si la vuole la porta calmo calmo non si apre senti che c'ho agitazione la senti l'agitazione c'ho la puttanaccia di una troiaccia beh se non altro i jumpscare gli vengono bene con queste creature che sono disegnate per fare i jumpscare perché non si sentono oh l'acrobar mo ti voglio mo mi devo ricordare adesso a sinistra eh sinistra eh monna che violenza oh mi sono aperto la porta in faccia da solo non voglio leggere che vuoi dire è importante questo buco e in realtà l'intero edificio rappresenta la radice dentro di te no il marcio scusami dentro di te attraverso questo buco quasi tutto il buono viene fuori quindi quello quando era in te no non parliamo delle cose tristi andiamo avanti e mi sono rotto il cazzo ma non parliamo delle cose tristi parliamo dei mostri qua dietro che vengono fuori e fanno secondo me invece ce l'hai dietro alle spalle ogni tanto secondo me bisogna controllare tu dici ma è quel buco delle tue eh sì sì vaffanculo però sì ma è inabile donna quando è partito su sto blur che c'è intorno a però lui è inabile perché non riesce a fare le cose ma per quello quello te l'ha detto ha detto guardale il buco fa parte di te sai non gli risponde più eh sto cazzo di stalker dobbiamo vedere oddio ricordi quando tu e i ragazzi corrivate in questi corridoi adesso corri da solo qui lontano da te stesso secondo me sto ragazzino è stato bullizzato e ha realizzato sto gioco come per esorcizzare il dolore che gli hanno inflitto e ha torturato il povero giocatore e il povero personaggio come avrebbe voluto torturare i suoi aguzzini a scuola o mi piace pensare che lui fosse un bullo e con questo gioco ma la smetti per favore vai avanti che almeno tagliamo è fastidiosamente lento sto gioco ma non è vero e che cazzo ma non è vero non è ma non è vero che c'eri dove cazzo eri ma dai che c'hai i trigger point che ti spawnano alle spalle o ancora lo capisci si ma che cazzo allora non controllo più niente tanto controlli mi serve una sega lui spunta quando cazzo gli va e poi perchè ogni volta che passo una porta mi si spegne la luce sali di la sali di la sali di la non si può provaci ma non hai capito dai ma sei proprio ma inabile mi ascono brutti brutte parole hai problemi niente qui non si passa no no e la è troppo difficile è troppo difficile lui è un bullo e come tutti i bulli ha le ginocchia attaccate ai piedi non ha le gambe vai adesso mi dici che è chiuso oh questa stanza è aperta dove sei non è entrata dalla porta dalla porta a destra è spawnato da qualche parte dai appena esce a sinistra ora sei consapevole che ci sono un sacco di trigger point notevole questa cosa allora non ha senso controllare cioè in linea di massima ogni volta che accedete a una stanza qualcuno vi spawna alle spalle esatto madonna che palle madonna stando a questa meccanica taglio il cazzo nel mentre posso dai che carino il gioco ho giocato da ma è giocato da solo di notte c'è la sua atmosfera grazie al cavolo cioè jump scare fatti benissimo sul fatti benissimo sembra che tu stai ancora cercando la chiave ma di che cosa soprattutto cioè più che altro è quello che mi interessa sapete ma perchè a volte muoiono subito altre volte no senti facciamo una cosa adesso ti raccolgo sti colpi e noi ci vediamo nel prossimo episodio ma veramente altri sta merda nel quale giochi tu perchè hai visto nella coscienza che succede quando ammazzi un mostro vuole fare film mo ve lo finisco io ci vediamo nel prossimo episodio no no mo ve lo finisco ciao